salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi vi farò vedere dei piccoli accessori che abbiamo comprato per la nostra macchina in questo caso abbiamo comprato lo sito slparts che sarebbe questo sito qua giù nella descrizione del video vi metterò sia il sito quando guarda lo store del sito diretto e sia poi vari link per quanto riguarda gli accessori che abbiamo comprato oggi in questione in questo caso e nello specifico abbiamo comprato le luci del portatarga sul sito slparts le luci sono queste qua che adesso vi faccio vedere sono delle luci totalmente a led eccole qua queste sono le luci all'interno della confezione troviamo sia per quanto riguarda il collegamento della luce all attacco originale della nostra macchina e sia anche la resistenza per evitare quel diciamo problema della linea campus che ci dà l'errore all'interno della macchina quando riguarda i collegamenti sono abbastanza facili e semplici non sono difficili basta collegare questo al jack in dotazione questo qua la luce questo qua poi alla nostra macchina è una coppia di lampadine eccole qua con i relativi collegamenti ok sia destro che sinistro insieme a queste luci abbiamo comprato anche questo kit di leve che già vi ho fatto vedere in un altro video precedente per quanto riguarda e per facilitarci lo smontaggio delle luci o anche degli altri componenti che l'interno della nostra macchina queste leve sono totalmente in plastica non rovinano la nostra macchina e la graffiano in più ci aiutano a fare leva laddove non dovremmo diciamo utilizzare un cacciavite per non utilizzare il cacciavite andiamo a utilizzare proprio queste leve qua in questo kit ci sono quattro leve sia una leva grande una leva un po più piccolina una dritta e questa qua un po più curva vedete di varie misure adesso se so nella nella descrizione del video vi metterò sia il link per quanto riguarda le leve e sia il link diretto per quanto riguarda queste luci qua in particolare così che nel momento in cui avete un audi a4 come la mia basta cliccare sul link nella descrizione e vi acquistate da direttamente nella nella selezione dell'acquisto delle luci sia delle luci se vi servono e se per quanto riguarda le leve il sito in questione e questo qua della sl parts sl parts punto it una volta andare sul sito è molto facile acquistare c'è sia la selezione per auto sia la selezione per moto sia per prodotti o anche kit a led xenon effetto xenon adesso vi faccio vedere come si è facile muoverci nel sito andiamo in selezione la tua auto perché è una alfa romea perché è una ferrara perché è una fiat una ford un unto o qualsiasi altra macchina basta selezionare la categoria della macchina in questo caso parliamo di un audi a4 ecco qua a3 a4 a4 b8 ci clicchiamo sopra e ci da tutti gli accessori per la nostra macchia in questo caso abbiamo comprato luci targa questo qua luci targa a led ci clicchiamo sopra in questo caso noi abbiamo comprato non abbiamo comprato le luci queste qua ma direttamente il pannellino a led la placchetta a led ci clicchiamo sopra e stesso qui ci da oltre le foto vedete e vi fa vedere anche i componenti che ci sono all'interno o anche la foto della luce accesa e anche l'effetto che ci fa e sia per quanto riguarda per l'acquisto e anche un po tutta la descrizione e le caratteristiche delle luci con garanzia di due anni una volta fatto aggiunge al carrello ci clicchiamo sopra andiamo con procede al pagamento in questo caso ci sono due articoli nel mio carrello coppia di frecce posteriori e placchette a led complete una volta fatto questi due ordini andiamo in conferma conferma il mio ordine clicchiamo sopra qua e ci confermiamo l'ordine per quanto riguarda i vari tipi di pagamento accettano sia paypal sia tutte le carte di credito e volendo anche il contrassigno che nel momento in cui vogliamo pagare a casa il corriere arriva a casa e paghiamo direttamente al corriere con una piccola giudica di 4 euro sul pagamento in contrassigno per quanto riguarda invece la spedizione è sempre totalmente gratis voi non pagate mai la spedizione anche se pagate in contrassigno seguite sempre i miei video così da avere anche un codice promozionale ed avere un ulteriore sconto sul sito è facile acquistare perché oltre come vi dicevo a selezionare per la nostra macchina si può anche selezionare per la nostra moto se abbiamo una Yamaha una Vespa un Aprilia una Beta un BMW o anche se sappiamo quello che dobbiamo comprare andiamo direttamente in prodotti andiamo in prodotti compriamo non so una batina una T10, una T5, un assiduro, dei DRL, qualsiasi cosa che ci può essere utile e abbiamo bisogno in più ci sono anche accessori per le ruote queste qua sono le leve che ho acquistato io ci clicchiamo adesso vi faccio vedere eccole qua costano 7,90 euro e questi sono le leve nello specifico vedete ok ragazzi adesso scendiamo e vediamo un po' con l'effetto di questi accessori appena comprati sulla nostra macchina ed eccoci qua e adesso andiamo ad installare le luci portatarga eccoci qua sempre della SL parts ecco qua nello scattore come vi ho appena fatto vedere sono usciti la coppia di luci e in più i connettori i vari connettori per smontare le luci del portatarga utilizzeremo come sempre per le nostre leve per facilitarci dello smontaggio delle vecchie luci e del rimontaggio delle nuove luci per smontare le vecchie luci adesso vi faccio vedere come si fa per fare leva andiamo vedete ecco qua si sgancia molto facilmente sia la prima luce e andiamo a smontare tutto il connettore eccoci qua ci tiriamo via il connettore facendo leva sotto questi due ganci ok e anche dall'altra parte così ecco qua facciamo leva di un lato e ci tiriamo via tutti i connettori vecchi ok molto sganciato tutto prendiamo le altre luci queste qua e ne andiamo a rimontare allora per quanto riguarda invece l'installazione delle luci portatarga è semplicissimo basta andare a collegare il connettore originale con la nostra luce in questo caso e poi andarlo a collegare al connettore originale della luce larga lo spinotto identico quindi va solamente collegato sia quello di destra e sia la stessa cosa la facciamo con la luce di destra e di sinistra andiamo a collegarci lo spinotto sempre originale sul lato sinistro e i collegamenti sono stati effettuati prima di fare tutto di chiudere vi consiglio di metterci una piccola fascetta vicino questi connettori così devono avere questi fili che volano all'interno della nostra paura all'interno sia a destra e lo stesso lavoro andiamo a fare a sinistra ecco qua la prima volta fatto ciò mettiamo tutto il cablaggio all'interno e ci andiamo a collegare ci andiamo a inserire la luce sia quella di destra e sia quella di sinistra ok adesso che c'è l'effetto visivo ecco qua posso garantire che fa una bella luce e già vedendo a terra già fa un bel effetto poi stasera vi faccio vedere l'effetto visivo di notte ragazzi spero che come sempre questo video vi sia stato utile se vi è piaciuto mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella e per qualsiasi cosa scrivete quello che vi può interessare nei commenti e quello che posso fare sono sempre felice di potervi aiutare ok ragazzi per il resto che dirvi al prossimo video ciao ragazzi ciao